Allora, sono salito da questa parte, quindi si è aggiornato all'alto punto di partenza, però sono sceso dalla vecchia strada, quello sotto il monte Penna, scendiamo piano piano, le strutture sono sempre belle, poi peraltro non è che sono andato proprio in questa quota, però va sempre bene camminare, stare in noce senza fare niente, ci rende tigri, stanchi, ci si annoia, non si apetece, invece così è tutta salita. Adesso andiamo a scendere qui, scendo al passato, adesso è setto.